musica 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 Julian Coop artista poliedrico che porta avanti moltissimi progetti ma ho noto per sei stato l'artista manifesto della New Wave so Julian vorrei chiederti parla 5 di te sono stato molto fortunato nella mia vita quindi il mio compito adesso è cercare di sostituire qualcuno dalla vita mi ha dato tanto hai avuto una carriera molto lunga che è iniziata alla fine degli anni 70 e arriva fino ad oggi vuoi parlarci del tuo percorso musicale la mia carriera d'artista è stata veramente caotica quindi ho iniziato col punk rock e adesso mi sto ancora trasformando e cercando di dare un altro ordine a questa anarchia e mi sto andando verso la corrente di Bakunin nei tuoi dischi emergono moltissime tematiche politiche, sociali e ambientali vuoi approfondire questo aspetto? nella mia vita ho scritto soltanto cose che riguardavano me me stessa e la mia conoscenza quindi ho scritto e parlato e cantato di cose che riguardavano me e che conoscevo sono profondamente agnostico quindi sono sempre comunque alla ricerca di quello che le persone hanno bisogno tutto il resto è in trattenimento grazie a Giulianco per essere stato con noi grazie a Giulianco per essere stato con noi grazie grazie a tutti